Grazie a tutti. 5 Filodoro Matto, 6 Farabutto Stecca in seconda fila, 7 Favola Bar, 8 Flashpoint Call, 9 Freddi del Duomo, 10 Foreman V Fior. Macchina che inizia ad accelerare ed è distante, Farabutto Stecca che perde terreno in fase di allineamento. Parte una ventina di metri dietro agli altri. Si parte con Veloce Forever che prova a tenere l'iniziativa. Ha fatto partenza anche Frejus Grimm che al solito non era mai partito così svelto. Oggi sfruttando una prima fila di non grandi partitori, Frejus Grimm va a chiedere a ottenere strada da Forever. E così si installa al comando dopo 200 metri di corsa. Numero 6 Farabutto Stecca, squalificato. 14,8 in lancio per Frejus Grimm che ha preso la testa nei confronti di Forever. Terza posizione per Favola Bar, filtrata bene dalla seconda fila, poi in corda Flashpoint Call. Di fuori scoperto c'è Falco del Duomo, va a fare la seconda pariglia a largo Filodoro Matto. 33 per il primo quarto di gara, mantiene il ritmo tutto sommato allegro Frejus Grimm all'avanguardia che passa i primi 600 metri in 46 e mezzo. Frejus Forever, Favola, di fuori Falco, viene via dall'ultima posizione Foreman Vuffior che approfitta del rallentamento per puntare in avanti. Si trova però mezzo anticipo da parte di Filodoro Matto, lo riesce a scavalcare e si porta allo scoperto. Foreman Vuffior dopo 800 metri passati in 1, 2 e 4. Si è portato a lato di Frejus Grimm. Ed ora è allo scoperto, secondo in corda è sempre Forever che precede Favola Bar. Seconda pariglia per Falco del Duomo, per Falco Bye Bye che precede Filodoro Matto. Sotto alle tribune dopo un chilometro in 1, 17 e 9, Frejus Grimm prosegue in vantaggio. Punta in terza corsia, Filodoro Matto ha un giro dalla fine. 39, questi 400 metri di corsa, segno che un po' si è accelerato. Ora Filodoro prova ad aggirare il gruppo. Rimane sempre bene al comando Frejus Grimm che ora accelera. Prova a seguirlo Forever, di fuori Foreman e Filodoro. In corda senza spazio Favola Bar, avanti a Falco Bye Bye. Quando siamo ormai a 400 metri dalla conclusione, la retta opposta alle tribune è passata in 14, 3. Accelerazione secca da parte di Frejus Grimm che cerca la fuga da Forever e da Foreman Vuffior. Poi Favola Bar, quindi Flashpoint col galoppo. Foreman Vuffior ha galoppato anche Forever e così è solo in vantaggio Frejus Grimm. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo Flashpoint col che ha bucato di dentro Favola Bar si presenta al secondo posto. Frejus Grimm che nel finale, nonostante fletta, viene a vincere nei confronti di Flashpoint col al terzo posto Favola Bar. 31 a chiudere, 1-16-4 raguaglio cronometrico, 59-6 gli ultimi 8, vittoria in percorso di testa per Frejus Grimm. Antonio Greppi per il training di Michela Racca, i colori del signor Claudio Bagni, la vittoria per Frejus Grimm. Facile al successo, finisce bene al secondo Flashpoint col al terzo Favola Bar in numeri 387. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti